buongiorno a tutti siamo con il professor Italo Fiorin che è docente di pedagogia sociale alla LUMSA di Roma ma è anche presidente della scuola di alta formazione EIS educare all'incontro e alla solidarietà ecco abbiamo l'occasione di eh incontrare il professor Fiorin che è a Catania in questi giorni per un'importante convegno in cui si parla di Don Milani. Allora Don Milani è un po' come dire un evergreen è sempre attuale e sempre di moda. Qual è in particolare secondo te professore il valore eh e la modernità ancora di Don Milani oggi? Grazie buongiorno a tutti. Parlare di Don Milani oggi eh eh lo si può fare in tanti modi ma io credo che non sia eh tanto l'occasione per una commemorazione per un ricordo quanto per una attualizzazione eh di una lezione che arriva da Barbiana e che è molto attuale. Ho letto recentemente di nuovo per non so quante altre volte la lettera a una professoressa e quello che mi colpiva mentre la rileggevo era rileggerla nell'Italia e nella scuola di oggi. Che cosa significa rileggere la lettera oggi? Perché secondo me si tratta di una lettura attuale e di una lettura scomoda e di una lettura che può invitare a una riflessione importante e anche ad indirizzare in maniera significativa la nostra attenzione educativa. come comincia la lettera a una professoressa? Lo lo sappiamo tutti ma lo provo a ridire. Cara professoressa di me non si ricorderà ne ha bucciati tanti. Che cosa ci dice questa affermazione? Due cose. Chi scrive, il ragazzo che scrive, è anonimo per la sua professoressa. Non sa il suo nome. Cosa vuol dire non sapere il nome dei nostri studenti? Vuol dire avere di fronte degli standard da raggiungere. I ragazzi di Barbiana ci ricordano che la scuola esiste, la sua organizzazione ha senso se risponde soprattutto a quello sguardo che intercetta un nome, un cognome, una condizione, una singolarità. E questa è una lezione che oggi noi possiamo dire tranquillamente l'abbiamo imparata e poi ne ha bocciati tanti. E questo un tema che non è attuale nella nostra scuola, che ha superato la dispersione, gli abbandoni, ha incoraggiato ad una frequenza e ad un successo formativo generalizzato? O è ancora una volta una domanda che un ragazzo di oggi potrebbe rifare ad un professore e ad una professoressa e soprattutto ad una scuola di oggi? Questo mi sembra immediatamente ci mette di fronte a delle questioni di grande attualità. senti, professore, tu prima hai detto una cosa che mi ha colpito molto. Mi hai detto chiamare gli alunni, gli studenti con nome e cognome significa anche, come dire, riconoscerli come soggetti e come cittadini anche in un certo modo. Una delle lamentele, diciamo così, più frequenti fra gli studenti è proprio questa. Non ci sentiamo riconosciuti, non ci sentiamo ascoltati, quindi forse su questo terreno c'è ancora molto da fare o no? Credo che questo sia uno dei problemi principali, cruciali. Io ho avuto e ho ancora modo di avere tanti incontri con gli studenti e di ascoltare studenti, non solo dell'Italia peraltro, per tante ragioni anche di altre parti del mondo, ma una cosa mi colpisce nella diversità delle situazioni. Quello che uno studente oggi chiede è, prima di ogni altra cosa, di essere ascoltato. E essere ascoltato significa tante cose. Per essere ascoltato innanzitutto bisogna essere riconosciuto, essere visto, essere accolto così come sei e non secondo le attese che io ho su di te. Poi significa avere la possibilità di dire la tua e anche quando non hai la capacità di dirla di essere intercettato e di essere in qualche modo interpretato da un adulto che ti sta guardando con accoglienza. Allora da lì, da questo abbraccio può nascere tutto il resto. Il problema, ad esempio, dell'autorevolezza, oggi è molto, si parla molto, no? Ecco, ma proprio a questo proposito, Italo, c'è un tema che oggi i docenti dicono sì, va tutto bene, però anche io docente ho il diritto, anzi forse il dovere di essere riconosciuto nella mia autorevolezza. Ed è qui che forse nasce anche un po' lo scontro fra docenti che non si sentono riconosciuti e insegnanti che non vedono riconosciuta la propria autorevolezza. Come se ne esce da questo secondo te? Certo, c'è un diffuso malessere e anche una grande stanchezza negli insegnanti. Tra l'altro anche gli insegnanti hanno bisogno di essere ascoltati e riconosciuti. Anche questo è qualcosa che è constato ed è veramente simmetrico a quanto succede ai loro studenti. Ma l'autorevolezza, i ragazzi la danno, la concedono ad una persona che sentono loro vicina, che sentono si sta interessando realmente di loro. E voi pensate Barbiana, chi ha anche una minima conoscenza di Don Lorenzo Milani certamente non lo immagina come un buonaccione, non lo immagina assolutamente come una persona come si dice buonista. Don Milani è molto esigente. Eppure non si può negare che questi ragazzi si sentono amati da Don Milani e rispondono alla sua attenzione. Allora il problema dell'autorevolezza è quello di essere credibili, è quello di essere appassionati, è quello di essere anche non necessariamente super uomini competenti in tutto, ma capaci di mettersi con i ragazzi stessi in ricerca, di stare dentro un percorso che però per primo è affascinante per chi lo propone. Allora i ragazzi rispondono. Certo, senti, a questo proposito va anche detto che nonostante che, come tu hai ricordato, Don Milani Don Milani non sia stato proprio per nulla buonista, anzi era severo, era esigente. Però poi col passare degli anni, soprattutto in questi ultimi anni, sta venendo fuori un po' un racconto, una narrazione diversa di Don Milani. Ecco, molti dicono a Don Milani che dobbiamo il disastro attuale della scuola. Cioè, Don Milani ha aperto appunto al buonismo, tutti promossi, tutti vanno avanti, tutti diventano tutti diventano medici, ingegneri e professori e questo ha creato grandi problemi. Ma è esattamente così? Cioè, questa è una lettura corretta di Don Milani? Sì, hai ragione, non mancano voci anche diciamo riconosciute dall'opinione pubblica che dicono questo. Sarebbe da chiedersi allora, facendo una sorta di passi indietro e collocandoci proprio nell'Italia di Don Milani, chiede su la scuola che Don Milani ha incontrato. Era una scuola che andava bene? Ha incontrato soltanto dei poveri ragazzi, una minoranza non rappresentativa, ma il sistema scolastico era un sistema che funzionava, che garantiva realmente a quanti più studenti possibili il raggiungimento degli obiettivi elevati che ci si pone quando si insegna. Se andiamo a vedere come incontrano la scuola i ragazzi che scrivono la lettera a una professoressa, come la incontrano? La incontrano per quello che la scuola ha fatto loro, incontrano una scuola che li ha scartati, una scuola che non ha considerato la loro situazione reale, una scuola che ha visto in chi non ce la faceva una zavorra. Allora certamente se noi abbiamo in mente una scuola che ha una elevata qualità per pochi e una sufficienza per molti, una scuola dal doppio standard, certamente si può criticare la scuola di Barbiano. C'è ad un certo punto nella lettera in una maniera molto provocatoria una riflessione che fanno i ragazzi quando dicono possiamo dire che in realtà siamo di fronte a due tipi di scuole, le chiameremo così, una è la scuola del servizio, la scuola del servizio della comunità, l'altra è la scuola del servizio dell'io. Allora certo si tratta di decidere dentro quale tipo di scuola tu vuoi interpretare la tua professione, la tua proposta culturale. Senti chiudiamo con un tema classico di Don Milani che stava a cuore a Don Milani che è quello della lingua. La lingua ci fa uguali diceva Don Milani. Sono passati più di 50 anni dalla lettera ad una professoressa. Ormai l'unità linguistica in questo paese l'abbiamo raggiunta quasi completamente. Anche se ci sono ancora molti buchi da coprire. Forse però il tema del linguaggio oggi si ripresenta in forme diverse. Se Don Milani fosse ancora con noi che cosa direbbe a proposito dei nuovi linguaggi? Certo la situazione oggi è diversa anche se non dobbiamo dimenticare che una larga fetta di studenti che non sono di origine italiana ma sono delle nostre scuole in una tristissima lista d'attesa per diventare cittadini pienamente riconosciuti non parlano l'italiano magari parlano l'inglese magari parlano il francese non sono analfabeti ma non hanno la lingua quindi si pone anche un problema di alfabetizzazione di questo tipo ma più in generale io dico che l'idea di alfabetizzazione è molto più complessa oggi molto più impegnativa e va affrontata e secondo me va affrontata a più livelli ci sono almeno tre tipi secondo me di alfabetizzazione che vanno tenuti presente. La prima la possiamo dire realmente è l'alfabetizzazione funzionale e dentro questo tipo di alfabetizzazione mettiamo non solo la lingua italiana ma tutti quei linguaggi che sono oggi indispensabili per essere cittadini per poterci per potersi muovere nella complessità della realtà di oggi per esempio i linguaggi del digitale sono importanti certamente sono importanti e importante la conoscenza quanto meno della lingua inglese oggi o di una lingua veicolare insomma sono più articolati i linguaggi funzionali poi però ci sono altri tipi di alfabetismo che forse non sono altrettanto messi sotto la lente dell'attenzione e forse non sono meno importanti per esempio l'alfabetizzazione culturale questo è un altro livello di alfabetizzazione che riguarda la capacità di fornire gli strumenti per leggere con una culturalmente attrezzati gli avvenimenti per leggere in maniera culturalmente attrezzata la società nella quale noi stiamo e questo è un altro livello molto importante che chiama in gioco l'alfabetizzazione anche delle stesse discipline del dialogo tra le discipline del senso che le discipline hanno perché altrimenti avremo ancora una serie a una serie b chi ha solo l'alfabetizzazione funzionale e chi ha anche una culturale. Probabilmente c'è anche una terza questione perché oggi lo vediamo quotidianamente gli episodi di cronaca ce lo ricordano oggi c'è anche un problema di alfabetizzazione alla socialità cioè quindi stiamo diventando sempre meno sociali a leggere le cronache quotidiane cioè c'è sempre c'è molta aggressività c'è molta c'è molta incapacità di dialogare di risolvere i conflitti eh in modo eh non violento ecco questo credo che sia un altro tema di alfabetizzazione o no? Pensiamo a quello che può essere considerato il motto della scuola di Barbiana I care I care risponde a quale tipo di preoccupazione? Certamente uno può essere alfabetizzato molto bene a livello strumentale, a livello funzionale, può essere una persona capace di muoversi molto bene a livello culturale e al tempo stesso non essere preoccupato di null'altro che non sia il suo successo, la sua carriera, i suoi comodi, il suo io e questo direbbe Don Milani è avarizia. Oppure andare a scuola dice Don Milani il sapere serve solo per darlo. Ecco forse andare a scuola significa avere anche l'occasione di imparare un altro modo di stare al mondo e quest'altro modo di stare al mondo consente di collegare quello che tu stai apprendendo e la responsabilità sociale che deriva dal fatto che tu stai apprendendo qualche cosa e non è solo per te stesso ma lo è anche per gli altri. E allora possiamo dire facendo scontenti molti che criticano Don Milani e la scuola di Don Milani e così via che la scuola che Don Milani propone ha una vocazione profonda che si può esprimere con una parola, la parola politica. La scuola di Don Milani è una scuola che aiuta le persone a prendersi cura della propria polis, del proprio mondo, del proprio ambiente. certo, uscire dai problemi tutti insieme vuol dire appunto fare politica, così diceva Don Milani. senti, chiudendo quindi sulle ultime battute che tu hai fatto e quindi sulla necessità che la scuola non serva soltanto a imparare a leggere e scrivere oppure oggi ad imparare ad usare gli strumenti della tecnologia ma serva anche davvero a sviluppare forme di collaborazione, di solidarietà, ecco tu proprio questo cerchi di fare con la tua scuola di alta formazione EIS educare all'incontro e alla solidarietà, insomma in un certo modo ti collochi con questa scuola in quel filone, è giusto? certo, sicuramente la scuola nasce proprio dal desiderio di promuovere cittadinanza attiva e in particolare di proporre una proposta pedagogica che ha anche una sua importante metodologia che forse nel nostro paese non era conosciuta ma che è estremamente promettente, anzi sta dando dei risultati notevoli che per lo più viene chiamata con diciamo la etichetta del service learning che poi sta a dire mettiamo insieme queste due parole mettiamo insieme il learning, l'apprendimento e mettiamo con l'apprendimento il servizio secondo l'idea che se tu stai mentre apprendi facendo qualcosa per gli altri e questo qualcosa è possibile proprio perché tu hai appreso delle cose allora i risultati non sono solo qualcosa che aiuta gli altri ma ti aiutano a crescere anche te e proprio per chiudere con questa immagine di Don Milani dentro la metodologia molto ricca della scuola di Barbiana c'era un elemento imprescindibile lo dico così, a qualcuno chiede a Don Milani ma come fai a fare scuola quando hai 29 ragazzi di tutte le età e un solo maestro e lui dice ti sbagli, non sono 29 ragazzi e un solo maestro ma sono 29 ragazzi e 27 maestri perché nella scuola di Don Milani si imparava a mettere a disposizione dei propri compagni le competenze che si aveva e questo era un sistema efficacissimo non soltanto di insegnare agli altri ma anche di apprendere e di apprendere a diventare solidali non era la scuola del vietato copiare e del guai sbagliare ma era la scuola della cooperazione e dell'apprendere insieme Certamente di tutto questo torneremo a parlare con il professor Italo Fiorin docente di pedagogia sociale all'Università L'Umsa di Roma e presidente della scuola di alta formazione EIS è un'acronimo che sta per educare all'incontro e alla solidarietà Bene, grazie professore e buon lavoro e buon convegno su Don Milani Grazie ancora Grazie Grazie a tutti